Tempo di bilancio e di commenti anche per il mondo dell'emittenza privata. Allora direttore, che 2011 è stato per Teleromagna e per il nostro settore? Quali sono le prospettive per il 2012? Sì, è stato un 2011 all'insegna del digitale terrestre. Quest'anno è stato caratterizzato da questo passaggio, un passaggio che inizialmente prevedeva la conversione della sola Teleromagna, oggi invece sono ben sette i canali televisivi che rappresentano il bouquet digitale terrestre. Quindi al canale tradizionale abbiamo aggiunto un canale informativo, un canale sport, tutta musica, tradizione, quindi il brand Romagna. Quindi siamo decisamente soddisfatti di questo passaggio al digitale terrestre. Logico che come tutti abbiamo una preoccupazione per quel che può essere l'anno 2012, visto che nuovamente verranno riviste quelle che sono le caratteristiche delle televisioni con delle nuove classifiche, chiamiamole così, di qualità. Beh, da quel lato benvengono, benvengono anche una classifica di qualità, perché riteniamo di essere una televisione che fa servizio, un buon servizio per il proprio telespettatore. Siamo quindi decisi a entrare nel 2012 con un giusto entusiasmo e con tanta voglia di tenere compagnia al nostro pubblico. Problemi di mercato, problemi? C'è decisamente una flessione di quella che è la raccolta pubblicitaria dovuta non tanto, anzi sicuramente non alla qualità che noi proponiamo ai nostri investitori, dovuto un po' all'indecisione del mercato e alla mancanza di fiducia. Quindi non possiamo dire che le cose vanno benissimo, siamo però convinti che continuando a lavorare con dei parametri e con dei livelli qualitativi alti il mercato nel tempo continuerà a riconoscerci la leadership del mercato televisivo locale.